Ecco qua vedete il seeding, l'elenco delle otto test di serie che testimonia come il torneo sia stato onorato dalla presenza di tutti i più forti giocatori del mondo. Vedete Jim Currier che è stato sconfitto nel terzo turno, era prima test di serie, poi Stefan Edberg, Pete Sampras, Michael Chang e via via tutti gli altri. Un torneo che è sempre stato protetto nel calendario dell'ATP Tour, un torneo che ha sempre goduto della partecipazione di tutti i giocatori più forti e è stato per un certo periodo addirittura il campionato ufficiale dell'ATP, l'associazione professionista di tennis. Questo perché è un torneo importante con un montepremi ricco, qui vediamo intanto Stefan Edberg, primo semifinalista che vedremo all'opera, vedete i risultati che ha ottenuto in questo torneo, ha vinto nel 90 e nell'87, per lui i quarti di finale lo scorso anno, sconfitto proprio da Pete Sampras, poi 88 e 89 ha raggiunto la finale. Diciamo un torneo importante perché ha un grande montepremi, una grande tradizione, ma perché è anche un torneo inserito in una strada che deve portare poi a US Open. Sì, è una delle prove fondamentali, le prove, chiamiamole così, ecco, propedeutiche, preparatorie a quello che poi è l'Open degli Stati Uniti, l'ultima prova dello Slam. Il tipo di superficie in effetti è identico a quello dell'Open degli Stati Uniti, si gioca sul cemento. Ecco qua, intanto ci ricordano che Pete Sampras lo scorso anno è stato finalista in questo torneo sconfitto dal francese Forgé. Un Pete Sampras che è test di serie numero 3, che noi abbiamo visto trionfare direi addirittura sulla terra rossa di Kitzbühel, un Sampras che poi ha un po' deluso alle Olimpiadi, di come del resto aveva fatto Edberg, tra l'altro Stefan Edberg, proprio dopo la sconfitta al primo turno contro il sovietico Cesnokov, aveva dichiarato, io ho portato la bandiera nella parata di apertura per la nazionale svedese. Bene, mi vergogno dopo questo risultato ottenuto di essere stato l'alfiere della Svezia. Sì, però direi che hanno un po' di riceverità in questo torneo olimpico, parlo soprattutto della gara maschile, la gara che alla vigilia era accreditata delle maggiori attenzioni, non tanto perché il tennis maschile in generale riscuote maggiore attenzione di quello femminile, ma proprio perché in quella gara c'erano praticamente tutti e hanno deluso tutti, perché se riesce a vincere Rossè in finale con Jordi Arrese, allora significa che c'è qualcosa che non ha funzionato nel verso giusto. Senza poi voler levar nulla, scusami Roberto, a Rossè che ha battuto poi in sequenza gente importante come Ferreira, Curier, Sanchez e Ivanisevic, prima poi di battere in finale Jordi Arrese. Sì, ma direi che si sono un po' verificate quel tipo di condizioni sulla terra battuta, campi troppo lenti, una grandissima umidità, hanno condizioni di gioco sulle quali i giocatori più tecnici non riescono ad esprimere il loro miglior tennis. Qui a Cincinnati siamo arrivati come detto a livello di semifinale, la prima semifinale è una semifinale direi decisamente appascinante per gli innamorati del tennis perché abbiamo di fronte due giocatori giovani, vincenti, di straordinario talento, di grande classe come Stefan Edberg e Pete Sampras, due giocatori che sono in grado di regalare un tennis veramente bello da vedere, il classico tennis spettacolo. Sì, c'è anche un po' da verificare Massimo direi se quelle che sono state un po' le avvisaglie in questa stagione di una superiorità dei giocatori nati nel 1970 e 71 nei confronti dei vecchi, chiaramente tra virgolette perché Edberg essendo nato nel 1966 non può essere certo considerato vecchio, però rispetto a Sampras, Agassi, Curier, Ivanisevic, Ferreira e Krajček per accettare i migliori, Edberg è sicuramente un giocatore vecchio. Ecco, dicevo, si tratta di verificare se c'è una vera tendenza, una vera supremazia dei nati nel 70 e 71 nei confronti dei giocatori meno giovani oppure se si è trattato di eventi sporadici e la quarta prova del grande slam riporterà nelle giuste dimensioni il tennis di vertice. Io ricordo che stiamo trasmettendo in diretta da Cincinnati e trasmetteremo in diretta anche la seconda semifinale semifinale che sarà disputata da Ivan Landl che si è aggiudicato l'accesso a questo livello di semifinale battendo David Wheaton ieri sera con un putteggio secchissimo 6-1, 6-2 e il vincente della prosecuzione del match interrotto ieri dei quarti di finale per pioggia tra Michael Chang e Izzaga che si sono fermati sul 4-3 nel primo set. Qui vedete la temperatura a 68 gradi Fahrenheit naturalmente non gradi centigri, vedete l'82% di umidità, un cielo parzialmente coperto. E' anche una possibilità che piova di circa 40% quindi direi siamo in una situazione di rischio. Qui vediamo inquadrato Stefan Edberg, Edberg credo che meriti un attimo un capitolo a parte. Edberg quest'anno ha ottenuto subito pur non essendo in grandi condizioni la finale agli Australian Open dove ha perso da Jim Currier però poi un Edberg che ha vinto soltanto un torneo stranamente direi sulla terra battuta cioè l'unico torneo che ha vinto l'ha vinto ad Hamburgo. Qui vediamo una scheda di Edberg che forse direi che i nostri appassionati conoscono talmente bene che possiamo passare subito direi al commento. Cosa è successo a Edberg quest'anno? Lui stesso ha detto in fondo ho vinto soltanto Annette visto che si è sposato. E poi non si sa se sia un grande premio questo. I cattivi hanno detto anche che in passato l'hanno vinta in molti. C'è un bel albodoro anche lì. E ha vinto parecchie gare quest'anno. No ma torniamo un po' al tennis giocato. Ecco qui adesso ci ricordano che Pizzampras ha vinto due tornei quest'anno a Filadelfia e a Kitzbul sulla terra. Filadelfia sulla bochette, una competizione indoor. Sì un Edberg che non ha mai giocato bene quest'anno. E anche il torneo di Hamburgo insomma praticamente si è salvato contro il nostro Camporese. Aveva praticamente perso. Noi l'abbiamo commentato quel match. Poi ha giocato abbastanza bene con Stick ma è più che altre Stick che ha diciamo ecco ceduto di schianto nel set decisivo. Un Edberg che fa un po' fatica a trovare forse anche un po' di motivazione. Diciamo la motivazione giusta per rimanere al vertice. Ecco direi che deve succedere un qualche fatto particolare per cui Edberg possa entrare completamente nella partita e potere diciamo esprimere tutto il suo tennis. In questa prima semifinale del torneo di Cincinnati si affrontano il numero 2 e 3 non soltanto del tabellone ma anche il numero 2 e 3 dell'ultima classifica mondiale, del ranking dell'ultima classifica. Qui vedete che ci propongono i confronti diretti. Sono 2 a 1 in favore di Stefan Edberg però Sampras ha vinto l'ultimo confronto diretto con un 6-3 periodico proprio nei quarti di finale del torneo di Cincinnati dello scorso anno. Le vittorie di Edberg invece a Los Angeles nel 90 in semifinale con il puteggio di 6-2, 6-7 e 6-1 e poi sempre nel 90 nel master vittoria 7-5, 6-4. Vedete il record dei due su questo tipo di superficie, 13 vittorie e 3 sconfitte per Edberg in questa stagione, 12 vittorie e 4 sconfitte invece per Pete Sampras. A inizio l'incontro con Sampras al servizio. In linea teorica direi che questo è un tipo di superficie sulla quale possono esprimere un grande tennis entrambi i giocatori. Sono particolarmente adatti per giocare su questo tipo di superficie. Direi Sampras ottiene un qualche vantaggio in più rispetto a quello che è il suo gioco, che è intanto inquadrato giudice di sedia, il brasiliano Pereira. Dicevo Sampras che su questa superficie non ha tempo praticamente di sbagliare, come può invece fare sulla terra battuta. Qui con un colpo veloce può fare il punto direttamente. Qui fa il punto con una volée di dritto in allungo, 15 pari. Sul nastro la risposta di Edberg, 30-15. Qualcuno ha toccato il nastro? Ancora secondo servizio per Sampras. È larga, la volée bassa di rovescio. Vedete che la sta mimando nuovamente Sampras, 30 pari. Bisogna ricordare che Sampras proprio nella scorsa stagione iniziò una seconda parte di anno sui campi degli States. Quando torna sul cemento, quando sente il profumo di casa, Sampras trova sempre una condizione migliore. Lo stesso Sampras aveva detto proprio dopo la finale vinta a Kingspool. Io sono venuto qui a Kingspool, ho vinto il torneo, sono contento. È stata una buona preparazione per le Olimpiadi, ma se non ci fossero state le Olimpiadi, onestamente credo che qui non sarei venuto. Tutto sommato andavo a giocare sul mio cemento, ho detto. Avrei fatto l'open del Canada prima poi di fare il Los Angeles e Cincinnati senza la distrazione delle Olimpiadi. E d'altronde un giocatore che nasce su questo tipo di superficie è ovvio che cerchi di giocare il più possibile sulla superficie dove può esprimere il rendimento migliore. Grande rovescio passante lungolinea di Edberg. 40 pari. Un proiettile da parte di Edberg. Un rovescio praticamente giocato in controbalzo. Un po' quello che ci ha fatto vedere Agassi a Wimbledon. Cercato l'ace con taglio esterno Sampras. E' lungo questa volta il rovescio di Edberg. Seconda opportunità per Sampras di tenere il servizio d'apertura. E lo fa con un servizio vincente. Siamo quindi 1-0 in favore di Pete Sampras nel primo set di questa semifinale del torneo di Cincinnati. Pete Sampras che per arrivare a questa semifinale ha dovuto battere Montana al secondo turno essendo test di serie numero 3 del tabellone ha beneficiato di un bye alla prima partita però ha battuto Montana con Francisco Montana statunitense con difficoltà a punteggio di 7-6, 3-6, 6-3. Poi ha battuto Amos Mansdorf. Anzi Mark Woodford scusate con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-3. E quindi ieri Peter Corda con un duplice 6-3 contro un giocatore in buona condizione come il ciclo slovacco. Sì, giocatore che ricordiamo ha rinunciato al torneo olimpico proprio per cercare di difendere i punti ottenuti lo scorso anno sui campi in cemento. Ricordiamo che Corda si è proprio rivelato nell'estate americana un'estate che gli ha consentito di ottenere risultati sicuramente molto più compatibili al suo talento che è davvero eccezionale. Tanto qui a proposito di talento c'è una risposta di rovescio di Sampras che fulmina Edberg. Sul nastro, favolè d'approccio di Edberg 0-30. Massimo, io non so se sarà il caso di questa partita, però quello che noto in Edberg o perlomeno che ho avuto modo di notare avendolo visto molte volte quest'anno è che con il servizio fa meno male dell'anno scorso. Ecco, io adesso non riesco a cogliere bene gli aspetti diciamo peculiari del movimento della battuta di Edberg. E' certo che con il servizio il giocatore svedese in questa stagione non è risultato così efficace come invece gli era successo nella scorsa stagione. Con un po' distratto a rete questa volta Edberg, è vero che il dritto di Sampras aveva una potenza straordinaria comunque 0-40 e ci sono le prime palle brecche, sono tre consecutive in favore di Pete Sampras. Sì, un po' distratto, però contro il suo servizio si gioca sempre. Questo è vero perché lui utilizza il servizio anche per scendere la rete, soprattutto per prendere la rete. Però se è troppo lento e troppo debole, ovviamente gli avversari possono trovare il ritmo della loro ribattuta e creargli anche notevoli difficoltà sulla rete. Edberg è un grande volleatore, però se è costretto a fronteggiare ogni volta un proiettile è ovvio che la probabilità di sbagliare la volle possa diventare più alta. Intanto c'è il doppio fall, quindi a 0 c'è del servizio Edberg, siamo con il primo brecche dell'incontro. 2-0 per Pete Sampras. 2-0 per Pete Sampras. Si è trovato la palla molto addosso Edberg in questo caso. Vedete la solita coppia formata da Tony Piccara e dalla moglie Annette. 15-0 è tanto. Preoccupata. Dicevo una coppia preoccupata, quella dei due accompagnatori di Edberg. Non progressivamente preoccupata direi. E beh, sai, visto quello che è stato l'andamento di Edberg in questa stagione, nonostante sia numero due delle classifiche mondiali, erano abituati ad altro. Sicuramente perché Edberg ha una grande dote. È un giocatore che è in grado anche di mettersi a cercare di metterla palla in campo. È un po' umile in poche parole e quindi riesce a salvare situazioni a volte che non hanno bisogno del suo miglior tennis per essere salvati. Adesso invece c'è bisogno del suo miglior tennis. Siamo 40-0. Ecco qui, vedete, Sampras proprio con la voler di diritto, addirittura camminando, quindi il massimo della sicurezza, senza spostamento di peso. Cioè la gamba destra non ha ricevuto l'appoggio, non ha ricevuto il peso del corpo. Tutto con il polso riesce a fare Sampras. 4-3-5 Riesce a tenere profonda la risposta questa volta a Edberg, 40-15. Edberg ha interrotto una serie di 10 punti consecutivi in favore di Sampras. Completamente incentrata la risposta dallo svedese. Sampras tiene il servizio, vedete che passa a condurre 3-0. Qui inquadrato l'albo d'oro del Freightway ATP Champion degli ultimi anni. Vedete, nell'85 Becker, poi Villander, Edberg, ancora Villander, Brad Gilbert, Edberg e Guy Forget, che l'anno scorso ha vinto proprio contro Pete Sampras. Sì, direi un albo d'oro di tutto rispetto. Ma tra l'altro se l'importanza delle manifestazioni la fa l'albo d'oro, Roberto, qui abbiamo l'esemplificazione di quanto stavamo dicendo sull'importanza di questo torneo. Tra l'altro è uno di quei tornei che il prossimo anno sono compresi nel gruppo di 9 super tornei con un monte premi da oltre 2 milioni di dollari. Ci sono due prove sul cemento prima dell'Open degli Stati Uniti, ci sono gli Open del Canada e appunto il torneo di Cincinnati. Proprio qui intanto c'è un altro doppio fallo di Edberg, che ancora deve conquistare un punto sul suo servizio. 0-15, dicevo in preparazione degli US Open, qui rivediamo l'errore di Edberg. Si è iniziato proprio da Toronto, agli Open del Canada, che vengono giocati alternativamente un anno a Toronto, un anno a Montreal, con la vittoria di Agassi in finale su Ivan Lendor. Lendor che in semifinale aveva sconfitto John McEnroe. Poi c'è stato il successo di Krajček su Mark Woodford a Los Angeles. Ci sarà questo torneo di Cincinnati e poi tornei che comunque trasmetterà, lo ricordo, Tele più 2, cioè il torneo di New Haven e poi il torneo di Indianapolis, di cui vedremo però soltanto la finale. Qui intanto ci hanno ricordato che Sampras ha conquistato 12 negli ultimi 13-15 giocati. Sul nastro, il tentativo di dritto lungolinea di Sampras, 15-30 e finalmente Edberg fa un punto sul suo servizio. Questa è un'altra frodezza balistica da parte di Sampras. Adesso Edberg non è molto convinto, dice che il suo servizio era fuori di molto e... Però francamente era molto difficile intanto da giudicare, la palla molto vicino alla linea e poi la risposta di Sampras comunque era un proiettile, era un tracciante. Ma ci sono altre due palle break sul 15-40. L'hanno chiamato, credo, un fallo di piede. Sì, la strada per Edberg si fa decisamente in salita in questa partita. Ecco qui inquadrata la giudice di linea, responsabile della chiamata di fallo di piede. Cercato la risposta aggressiva entrando nel campo Sampras, d'altronde il punteggio giustificava questa scelta. 30-40, resta ancora una palla break per lui. Sì, è una scelta che su questi campi qui è una scelta che si può fare. Il grave è che Sampras prova a farlo anche sulla terra battute, allora le probabilità di fare il punto sicuramente sono più basse. Questa è bellissima. Bellissima perché la risposta di Sampras è ancora veloce, piuttosto rapida e Edberg è riuscita ad allungarsi. Straordinaria volle di rovescio dello svedese, ce la fanno rivedere. Guardate, anche in condizioni non semplici per Edberg, che era un po' fuori, fuori diciamo equilibrio. Comunque salvate le due palle break da Edberg. E ancora una buona risposta di Sampras con l'errore a rete di Edberg che concede anche la terza palla break. Qui vedete Tim Gallixon, coach di Pete Sampras. Grazie a tutti. Un po' corta questa seconda palla di Edberg ma ancora un'ottima risposta di Sampras e qui lo rivediamo. Vedete che è già un metro e mezzo dentro il campo Sampras. Si legge troppo bene la direzione del servizio di Edberg, quindi credo proprio ci siano dei problemi nella battuta di Edberg. Il suo avversario legge con troppa facilità la direzione della palla. Adesso Sampras è un grande ribattitore, però fare il punto con questa facilità credo debba... Il fatto che riesca a fare il punto con questa facilità credo debba essere imputato anche alla debolezza della battuta di Edberg. Qui Sampras fa una prodezza sulla rete. Vedete un giocatore che riesce a spingere moltissimo ma ha anche delicatezza di tocco perché è riuscito a frenare la palla. Qui è stato molto bravo. È molto bravo perché in difficoltà ha giocato una buona demi-volez e poi in completo a lungo è riuscito praticamente a stoppare la palla al di là della rete. Servizio volè, 30-0 e qui Roberto. Qui non c'era niente da fare perché... Che è Sampras che quando serve è sicuramente difficilmente contenibile. Ecco, Edberg dovrebbe cercare di trovare i meccanismi della propria battuta in modo molto più efficace. E ha cercato di anticipare la risposta, di andare direttamente a rete sulla risposta in maniera anche un po' goffa, Edberg. Sì, credo sia anche un problema di convinzione. Quando non si raccoglie nulla nei primi quattro giochi e poi è difficile riuscire a trovare la sicurezza per giocare a una risposta di attacco. Il tennis di Edberg è un tennis piuttosto difficile anche se lo svedese interpreta molto bene il tennis percentuale però giocando con una grande pressione. E allora quando le cose vanno male diventa davvero difficile riuscire a venire a capo della superteona. Qui intanto con un ace chiude il game Sampras e come vedete siamo 5-0 in suo favore con due brecche di vantaggio nel primo set della semifinale del torneo di Cincinnati. Quadratura totale del campo centrale qui del Jack Nicolaus Sports Center di Mason Cincinnati. Spalti che si stanno riempiendo come Merisa, questo torneo importantissimo soprattutto questa prima semifinale che nelle previsioni dovrebbe essere la più affascinante la più combattuta, quella tra i due giocatori forse di più grande talento del circuito cioè Edberg e Sampras. Siamo però 5-0 Sampras con un Edberg anche poco reattivo, Roberto. Poco reattivo soprattutto dal punto di vista fisico e adesso non posso credere che la velocità di Sampras sia improvvisamente diventata incontenibile da parte di Edberg. Quindi c'è una difficoltà da parte dello svedese a entrare nella partita una difficoltà che viene ingigantita, ripeto, dalla sua poca efficacia al servizio. 15-0 15-0 Vedete che si gioca da 20 minuti di gioco con Edberg che la sovraimpressione ci ricorda che ha vinto con questo qui solo 4 punti sul suo servizio e questo è il terzo turno di battute. questo è molto bello questo è un rovescio di grande difficoltà giocato dal centro del campo vedete con assoluta naturalezza da parte di Edberg in realtà riuscire a trovare questa direzione della palla è molto difficile un colpo che non è per niente lavorato completamente piatto la probabilità di di mandarlo fuori davvero molto alta lascia e fa bene Edberg 40-0 l'opportunità quindi dell'1 a 5 qui interviene Paolo Pereira corregge e fa l'overrule quando ci sono il giudice di linea ridando il primo servizio a Edberg l'overrule peraltro è un influente perché sul 5-0 40-0 un overrule che non serve assolutamente a niente comunque 0-0 tiene finalmente il suo servizio Edberg sentite l'applauso anche dell'incoraggiamento del pubblico 5-1 Sampras che adesso serve per il primo servizio si un pubblico che fino a questo momento non ha potuto partecipare davvero molto alla partita una partita che invece sulla carta si preannuncia come uno dei migliori match possibili nel tennis attuale proprio per le caratteristiche offensive di entrambi i contendenti un pubblico che si tratta di un pubblico Qui è fortunato Edberg perché resta sul nastro il tentativo di passante di Sampras ma era andato anche a rete con una palla fin troppo morbida Edberg. Sì ho la sensazione che il campo non sia molto molto rapido, un po' le stesse condizioni che si sono trovate a Chibischiene, un torneo nel quale si è avuta una finale tra Chang e Mancini che non sono certi due giocatori molto adatti a rapidissimi. E d'altronde questa è un po' la caratteristica dei campi in cemento, cioè dalla quantità di sabbia che si mette nella mescola, nella vernice che serve a ricoprire il cemento può dipendere la velocità del campo. Con più sabbia il campo è più lento, con meno sabbia il campo diventa rapido. Abbiamo visto lo smash imperioso di Sampras, 15 paio. Ah bellissimo questo rovestro! Di Edberg, se un altro comincia a ritrovare questo colpo. Sì anche una buona risposta che ha costretto Sampras a giocare una demivolée difficile. E poi Sampras è andato a coprire giustamente il lungolinea, qui non lo vediamo però Edberg altrettanto giustamente ha giocato il cross. Si salva bene Sampras a rete. Poi chiude agevolmente con la volée alta di rovescio, 30 pari. Un grande riflesso di Sampras, ecco in questa situazione è stato davvero rapido, molto reattivo il giocatore americano. E is... Un taglio esterno per Sampras e quindi si procura il primo set point. Ho fatto una bella cosa tutti e due. Decisivo però è il passante di dritto incrociato di Edberg. Ancora una volée bassa da parte di Sampras, peraltro abbastanza lunga, è arrivato questa volta molto bene Edberg. Vedete, gioca ancora il cross. Era stato bravo Sampras prima con la volée bassa a tenerla profonda e anche angolata. Bravissimo poi Edberg a passarlo con il dritto incrociato. In rete il rovescio di Sampras che quindi concede per la prima volta una palla a break sul suo servizio. Per un errore di rovescio di Pizze Ampras. C'è quindi il break a favore di Edberg che ne recupera uno a suo favore. Ma siamo sempre 5-2 in favore di Pizze Ampras nel primo set della semifinale di Cincinnati. Cinque giochi a due nel primo set della semifinale di Pizze Ampras mentre qui ci ricordano in sovrimpressione il cammino dei giocatori. Parte alta del tabellone, questa è la parte bassa, quella che ha costruito la semifinale tra Sampras e Edberg. Vedete testa di serie numero 5, Petro e Corda sconfitto da Sampras in quarti di finale, in due sole partite. E qui la bandiera svedese che sventola. Questa volta non l'ha portata a Edberg. No, questa volta era già lì probabilmente, dall'anno scorso. Un Edberg che in questi ultimi due giochi, grazie anche alla complicità del suo avversario che si è distratto un pochino, insomma in qualche modo è riuscito ad entrare in partita. Almeno due buoni passanti vincenti abbiamo contato per Edberg. Uno di rovescio, uno di dritto. Edberg adesso al servizio ma sempre indietro di un break. Nel primo momento copre bene la rete Edberg, poi agevole, la vuole alta di rovescio. 15-0, vediamo qualche percentuale. Quella della prima di servizio praticamente simile ma diverso invece è quella dei colpi vincenti. 11-5 per Sampras, 8-3 invece gli errori. Sì, è sicuramente deficitario il fatto che Edberg abbia una percentuale di prima palla di servizio inferiore a quella di Sampras, proprio perché lo svedese con il servizio cerca molto di meno il punto di quanto non faccia il suo avversario. Quindi mi sarei aspettato per Edberg una percentuale intorno al 65% di prima palla di servizio. Forse se l'aspettava anche lui ma... Se l'aspettavamo tutti forse. Grandissima risposta di Sampras. 15-30. Un grande riflesso da parte di Sampras e comunque direi anche Massimo una capacità di leggere la direzione del servizio di Edberg. Edberg è giocatore che lancia la palla piuttosto alta e quindi non è impossibile riuscire ad intuire la direzione della sua battuta. Dall'inclinazione della racchetta si può... Un giocatore esperto come in effetti è Sampras può decifrare molto bene la successiva direzione della palla. 30 pari. Samprasi. Dall'inclinazione della sua battaglia. La prima volta io ora procurare. La prima volta io proverso una nella sua battaglia. La prima volta io mi spero, capito. Pennellato questo pallonetto da Sampras che poi giustamente lo segue a rete Altro set point, tutta volta però da giocarsi sul servizio Edberg Grande lavoro di Sampras, Edberg è un giocatore che si attacca abbastanza alla rete Giustamente Sampras lo ha scavolcato con il pallonetto Qui ha preso una palla che andava fuori Edberg Probabilmente andava fuori, però nell'indecisione essendo lui in una posizione abbastanza comoda Per ribattere la palla tutto sommato non ha fatto troppo male lo svedese a cercare di giocare la volete Questo è anche un sintomo direi della foca lucidità Un giocatore è in grande forma quando lascia le palle fuori per pochi millimetri Buttato via malamente la risposta e con lei il secondo set point sempre Quaranta pari Vantaggio Edberg Servizio è volé di rovescio da parte di Edberg Il quale riesce a tenere molto bassa la palla nella volete, nell'occasione E su questa superficie non è davvero facile Questa è una superficie che restituisce molto la palla Superficie dura in generale restituisce molto la palla Con un attacco in generale restituisce molto la palla Nel quale riesce a tenere molto la palla In generale restituisce molto la palla Un bellissimo attacco questo di Sampras, staccato con un rovescio tagliato ma con un taglio anche ad uscire. È un attacco che poi è diventato un passante perché Ebber si era reso conto che Sampras stava giocando con la palla piuttosto bassa e quindi è giustamente venuto avanti, non proprio con una grande scelta di tempo però è venuto avanti e nell'occasione Sampras è stato attento a giocare un colpo piuttosto angolato comunque fuori dalla portata di Ebber. Doppio pallo che offre il terzo set point di Pete Sampras e il terzo doppio pallo di Ebber Ci inquadrano questo elicottero che continua a disturbare un po' il gioco ormai da un paio di minuti che gira attorno al centrale con il chia di Ebber, tutto errore questo Roberto con il quale cede il primo set con il punteggio di 6-2. Un Ebber che non pare in grande condizione nervosa, anche questo è davvero un errore grave un errore che può fare un giocatore non certo del suo livello la risposta era probabilmente sporca, cioè la palla aveva centrato un po' la racchetta in queste condizioni è saggio giocare una volea alta piuttosto di uno smash colpo che necessita di una preparazione sicuramente migliore. 35 minuti per concludere il primo set a favore di Pete Sampras che adesso, dopo essersi lamentato per l'elicottero e continua a girare sul centrale del Jack Nicklaus Sports Center inaugura i servizi del secondo set. Io vi ricordo poi sempre l'appuntamento all'una di questa notte o se preferite di domani mattina con la seconda semifinale mentre mette a segno un ace Sampras quella che giocheranno Ivan Lendl ed il vincente della prosecuzione dell'ultimo quarto di finale quello tra Jaime Izzaga e Michael Chang questo è davvero una cosa di grandissima qualità un utilizzo del polso straordinario da parte di Sampras che aveva probabilmente la palla dietro vediamo un po' beh no, non proprio dietro in ogni caso con un movimento molto rapido molto corto, bloccato è riuscito a mettere fuori causa Edberg un Edberg che si sta buttando avanti in tutte le situazioni e quindi correre i rischi davvero troppo alti Vero è che Edberg non sta giocando benissimo ma Sampras sta giocando una grande partita fino a questo momento tiene anche il servizio d'apertura del secondo set siamo 6-2-1-0 in favore del tennista americano qui ci offrono qualche statistica Roberto ci sono persi un ace per strada ne abbiamo contati tre inequivocabili comunque sono abbastanza vicini alla verità in questo torneo hanno giocato anche tre italiani come intanto vediamo Brian Teacher a fianco di Galixson dicevo c'erano tre italiani nel tabellone principale Diego Nargiso Stefano Pescosolido e Gianluca Pozzi si è comportato meglio di tutti Gianluca Pozzi che ha battuto Lasek al primo turno credo che sia non vorrei sbagliarmi la terza vittoria in tre confronti diretti per Pozzi su Lasek aveva vinto a Toronto l'anno scorso ha vinto a Milano quest'anno Milano praticamente ha dominato l'avversario non gli ha fatto toccare la palla giocando un match incredibile Pozzi ha giocato davvero bene a Milano anche qui ha vinto in 2-7 contro Jakob Lasek prima di arrendersi 6-1 al terzo con Ivan Landl per il resto ancora un torneo deludente ma molto deludente per Stefano Pescosolido che ha perso contro Todd Martin 6-2 sconfitta al primo turno anche per Diego Nargiso che ha perso dall'australiano Simon Yule in 2-7 6-1 7-5 un bilancio mentre qua vediamo il Price Money 187.000 dollari e 500 per il vincente con 260 punti ATP circa 100.000 dollari per il finalista e ci va ancora una volta bilancio estremamente negativo del tennis italiano sì sono due avversari abbastanza pericolosi Yule non è un fenomeno però è giocatore da campi veloci quindi è una sconfitta diciamo che ecco ci può anche stare non è una sconfitta gravissima e Todd Martin è quello che ha castigato Pesco Solido in due soli 7 è un giocatore che secondo Igeras è il più forte di tutti io ho parlato con Igeras al turno di Wimbledon e lui mi ha detto guarda il più forte americano sui campi veloci è Todd Martin io l'avevo visto giocare a Parigi lo scorso anno raggiungere gli ottavi di finale quindi un giocatore che anche sulla terra battuta riesce ad esprimersi a buoni livelli non mi aveva affatto una grande sensazione però un giocatore sicuramente potente che dispone di un diritto e un rovescio notevoli e invece Igeras dice che ha fatto dei grandi progressi e che risponde come un grandissimo e quindi può essere la carta nuova diciamo del tennis americano che peraltro non ha certo bisogno di giocatori nuovi avendo quelli che dominano il tennis adesso ha tre nei primi cinque in questo momento perché Acuri e Sampras e Chang nei primi cinque con Agassi che ha vinto Wimbledon e sta rientrando in posizioni di classifica che sono sicuramente più adatte e compatibili con il suo talento adesso numero otto Agassi e comunque in effetti i giocatori italiani diciamo che viaggiano molto però non sempre raccogliono per quanto viaggiano viaggiano più di prima ma non vincono più di prima ma perdono come prima questo è il discorso sì anche perché forse ci si aspetta sempre da loro in qualche cosa di più io penso dobbiamo essere onesti cioè giocatori come Stefano che pure hanno fatto dei grandi progressi non è detto che vincono sempre contro contro Todd Martin perché Todd Martin è un giocatore che è poco conosciuto al grande pubblico però però è un giocatore solido come Yul che è un giocatore sicuramente inferiore a Martin è comunque un giocatore che a qualche partito ogni tanto se la porta a casa il problema è che i nostri sono di questo livello più quest'anno ha vinto il torneo di Singapore se non ero in finale su Arvis esatto sì è un giocatore che quindi può anche portare in porto risultati interessanti ovvero ecco sicuramente il torneo di Singapore non è un torneo di prima grandezza è comunque un torneo del circuito sul livello di Bologna come come importanza tanto per dare un metro di paragone per i nostri appassionati qui ha cercato una cosa impossibile praticamente Edberg intanto ci ricordano il prize money in carriera 3 milioni e mezzo di dollari superati da sempre con circa 600 mila dollari di solo Montepremi vinti quest'anno 30 a 0 vedi Massimo e poi non chiudiamo il discorso riguardante i giocatori italiani cioè la sconfitta contro Martin 6-2-6-2 è una sconfitta che è una brutta sconfitta però si può anche stare intanto qui Sampra stava cercando di complicarsi la vita poi alla fine riesce ugualmente ad ottenere il punto ecco dicevo che noi non vorremmo vedere episodi come quello del doppio ai giochi olimpici cioè non si può perdere contro cosa che è Pescario cioè stavamo dicendo cosa che non abbiamo mai visto ecco Pescario è un giocatore che ha fatto le gare giovanili quindi io l'ho visto qualche volta alla prova junior del Roland Garros un giocatore che tira abbastanza piano si muove bene ma è un giocatore leggero ecco quella è una brutta sconfitta contro due giocatori contro i quali bisogna vincere 3-7-0 i nostri riescono a perdere proprio perché si agitano davanti a loro fantasmi che niente hanno a che vedere con con un'interpretazione professionalistica del gioco ma sai il discorso sul pesco solido intanto siamo 40-15 è che Stefano dopo la vittoria di Scottsdale aveva davanti a sé tutta una stagione in cui doveva prendere punti quindi una stagione in cui lui male che va può scendere credo non oltre il 65esimo posto anche perdendo sempre al primo turno perché non ha risultati in quel periodo l'anno scorso però è proprio in questi momenti che bisogna ottimizzare una situazione di classifica favorevole cosa che invece pesco solido non ha mai fatto anche per colpe sue ancora una visuale del campo centrale del Jack Nicklaus Sport Center di Mason Cincinnati dove si gioca questo torneo con monte premi superiore al milione di dollari il Thriftway ATP Championship prima semifinale sino a questo momento porta decisamente l'impronta di Pete Sampras in vantaggio 6-2 2-1 come ci ricorda anche la sovraimpressione con Edbert che addirittura lo abbiamo visto cercare di fare dei punti impossibili quindi probabilmente nella sua psiche in questo momento Sampras è diventato un gigante lui si sente un piccolo uomo in questo tipo di situazione perché cioè non è davvero solito vedere Edberg provare a fare dei colpi da dietro la schiena o comunque cercare soluzioni che invece appartengono più al tennis spettacolare di Noa ad esempio Edberg è un giocatore molto spettacolare che però sceglie sempre delle soluzioni logiche delle soluzioni sagge quindi deve essere proprio in confusione psicologica proprio perché trova di fronte un avversario che è difficilmente contenibile quindi ci pare intanto aggressivo Edberg per il 30-15 Stefan Edberg come detto quest'anno ha iniziato intanto vediamo il record di Sampras dopo aver vinto il primo set 39 vittorie e 4 sconfitte quest'anno dicevo di Edberg la stagione di Edberg l'abbiamo dipinta deludente e lo è stata sicuramente in rapporto a quelle che sono le possibilità di Stefan Edberg ha iniziato con la finale agli Australian Open perdendo in 4-7 da Gene Courier poi ha avuto i suoi problemi in Coppa Davis anche contro contro il Canada contro Daniel Nestor il sconosciuto Daniel Nestor poi è riuscito a vincere alla fine contro Grant Connell portando la Svezia sul due pari poi c'era pensato Busterson a dare il punto vincente alla Svezia poi mentre siamo intanto due pari è arrivata la stagione al coperto quindi semifinale a Bruxelles una partita che aveva quasi vinto contro Boris Bechere che ha finito col perdere poi 6-2 al terzo set a Stoccarda è stato piegato dai 31 cos'è no? 31 di Ivanisevic sì moltissimo oramai Ivanisevic non fa più notizia quando serve sopra i 30 ace è un fatto normale per lui secondo turno a Rotterdam dove è stato sconfitto da Jan Simmering un discreto giocatore che però quest'anno di partite ne ha vinte anche pochi rolandesi ha vinto con Elbe poi a Litton a Kibiskain altra sconfitta pesante perché ottenuta contro cioè rimediata contro uno semi sconosciuto questo Robby Weiss che ha vinto 6-4 al terzo set poi ancora la Coppa Davis questa volta con vittorie convincenti contro Fromberg e Masur gli australiani al Japan Open a Tokyo semifinale sconfitto contro Krajček ha vinto Hamburgo come ricordavamo in finale contro Stich ma anche qui si era dovuto salvare qui intanto Prodezza di Sampras si era dovuto salvare contro Camporese poi ha perso contro Cercasov al Roland Garros al Quint sconfitto in semifinale da Mazzuoka Wimbledon quarti di finale contro Goran Ivanisevic quarti di finale anche a Stoccarda dove si è inchinato a Medvedev che ha avuto una settimana assolutamente straordinaria e poi primo turno alle Olimpiadi per Edberg è poco si l'abbiamo sottolineato una condizione incerta palesata nel corso di tutto l'anno e palesata anche in occasione della vittoria di Hamburgo un torneo nel quale le condizioni di pioggia lo hanno poi in definitiva favorito abbiamo più volte ricordato come nelle condizioni in cui non ci si possa allenare si possa giocare poco si possa provare poco i giocatori che hanno più facilità alla fine vengono poi fuori è fatto questo il caso di Edberg il quale è riuscito ad imporsi a Michael Stich in finale nella prova in Germania intanto Sampras tiene il servizio in vantaggio 3 a 2 senza break nel secondo set ha vinto il primo con il punteggio di 6-2 3 a 2 Sampras nel secondo set senza break ma come ricordavamo prima Sampras ha vinto già il primo set in 35 minuti 15-0 79% dei punti vinti da Sampras sulla rete è un saldo davvero notevole 4 punti su 5 per Sampras 1 punti su 2 per Edberg che è al 50% 30-0 4 punti su 5 SEMPRESS E che poi ha messo ulteriore pressione a Edberg 30-15 Ha rischiato qualcosa il giudice Dinette Edberg non aveva trovato il tempo giusto Per fronteggiare l'accelerazione di SEMPRESS E ha rischiato di colpirlo E d'altronde quello del tempo sulla palla È un problema notevolissimo Ci dice il professor Brody Che è il consulente scientifico della federazione americana Il quale ha scritto un libro praticamente di fisica del tennis Ci dice che bastano 5 gradi di ritardo Nell'impattare la palla Per commettere un errore di 3 metri A livello di linea di fondo Qui avete visto Quella che è la lista dei tornei Divenuti Della Championship Series Tra cui C'è l'inserimento Come vi dicevamo In precedenza di quello di SEMSINATI Largo intanto il dritto di Edberg 40-15 Tra l'altro Curiosamente Edberg e Sampras Hanno giocato il doppio insieme In questo torneo Venendo sconfitti Come peraltro era già accaduto Al quint Al primo turno Questa volta però Era un Primo turno di livello Perché hanno perso contro Lasek e Forgé Con un duplice 6-4 Dopo la pausa olimpica Dico pausa Perché Si è giocato Su una superficie diversa Da quella dove si sta giocando Il torneo Entrambi avevano Probabilmente bisogno di giocare E' uscito di un soffio L'ottimo rovescio di Edberg Passiamo quindi 40 pari Il pubblico non è convinto Direi che Anche se da questo replay Non è evidenziato Nella maniera migliore Che però la chiamata Sia stata corretta Palla break Miracolo di Sampras Edberg che spesso Cade sulla palla Non è il solito Edberg reattivo Lo vediamo Questo è un buon movimento Di gambe Ecco però Da Edberg In questa In questa posizione Ci si potrebbe aspettare Qualcosa di meglio Soprattutto perché E' andato a giocare Con la volée di rovescio Che è notoriamente Il suo colpo migliore Palla break Palla break Qui c'è il rischio di fuga Per Sampras Vediamo se farà un passo Io ho la sensazione Io ho la sensazione Per il corpo a corpo Per il corpo a corpo Alla meglio Sampras 15-0 Esce anche se non di molto Questo rovescio di Sampras Si è ancora buttato a rete Il solito bottino di punti Il solito bottino di punti Ecco vedete 123 migli all'ora Stiamo già su velocità notevoli Lo svizzero Rosset È il giocatore Che tira più forte Che manda la palla più forte Con la prima battuta Rosset Ricordiamo Vincitore del torneo olimpico E' questo intanto Per Sampras 40-15 Doppio fallo E' venuto il doppio fallo Anche per Sampras Però in un gioco Dove l'americano Ha cercato Con il servizio Di chiudere la partita E di mantenere L'avversario lontano Ha ottenuto Almeno due punti diretti Con il servizio Sampras In questo gioco Quindi rischiando Ci sta anche Un doppio fallo Per eccesso di spinta Al contrario Quelli di Edberg Sembrano più Doppio falli Per difetto di spinta Passato Sampras In questo caso Il grande rovescio Di Edberg Che il pubblico Prova ad incitare Vuole la partita Più lunga Si questo è comunque Un colpo molto Bellissimo passante Da parte di Edberg L'attacco di Sampras Era abbastanza corto E ha consentito Allo svedese Di prepararsi Molto bene Vedete una posizione Molto plastica In una zona del campo Dalla quale Edberg Difficilmente sbaglia Con il rovescio Qui c'è Galixson Che prende appunti Continuamente Accompagna la palla Fuori Sampras Che ha un'altra opportunità Del 5-2 Sul nastro La risposta di Edberg Tiene quindi in servizio Pizzampras Adesso siamo 6-2 5-2 In favore dell'americano Dopo il cambio di campo Edberg dovrà servire Per rimanere in partita Stefan Edberg al servizio Situazione Più che compromessa Direi quasi disperata 6-2 5-2 In favore di Sampras In questa prima semifinale Del Thriftway ATP Championship In corso di svolgimento A Messon Cincinnati Ohio Qui vedete Continua a scendere La percentuale Sì ma Non solo scende La prima palla Scende la percentuale Di prime palle Ma il salve di Edberg Sotto il 50% Addirittura Con la prima palla Di servizio Che è un dato Assolutamente straordinario Per un giocatore Come lui Mette subito a segno Un ace Edberg Ottima risposta Questa di Sampras Con un Edberg Proiettato a rete 30-15 Sposta di puro contenimento Con il rovescio Di Sampras Qui altro errore Di Edberg 30 pari E Sampras E Sampras A due punti Dal match Si gioca Vedete Soltanto Da un'ora E tre minuti Di gioco Dipende bene E la rete Sampras E tiene il servizio Edberg 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 è sempre stato E ceduto Finale Torta Avrebbe dovuto Essere in grado Di cercare di contenere Un avversario Per altro Eticacissimo Vicino Vicino E ceduto E ceduto E ceduto